Ciao ragazzi, benvenuti a questo mio nuovo video Oggi faremo un gameplay di Friday Night Funky Ma su Roblox Ehm 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 Normalmente perchè I miei tre video fatti sono doppiaggi quindi Ehm Comunque vi ringrazio per aver visto i tre video perchè Mamma mia Non sapevo che Sarebbero così Ehm Virali Ma soprattutto il secondo Perchè il secondo Ehm È stato veramente un successo Ti ringrazio molto Spero che Arrivi ai 100 iscritti per ringraziarvi Scusate se per questi giorni non ho potuto fare doppiaggi Ma perchè ho avuto veri richiesto anche più a scuola quindi Non ho potuto fare Tut 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 Tappissimi video Ma Credo che questa estate farò non Außerdem ok vanda le ciance andiamo a cercare il giocatore come giocare contro di me vai andiamo qua dai entra ci entri dai muoviti 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 dai 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 facciamo prima di tuto ricky si vai facciamo ricky molto bielo molto bielo molto bello Grazie a tutti 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 Grazie a tutti